Comunicazione di servizio, come potete notare oggi è sabato e normalmente dovrebbero uscire i video sulle tartarughe ninja, ma sono a parlare con voi oggi di D-Landog numero 46, Graucio V, solo oggi, mentre il video doveva uscire giovedì, perché non l'ho trovato nella mia edicola di fiducia, ho cercato in varie edicole finché non l'ho trovato sotto casa. Però scusatemi, scusate per questo ritardo, quindi questa settimana ci sono solo due video e preferisco parlare con voi di questo fumetto di D-Landog questo sabato, e sabato prossimo, che è a pochi giorni dall'uscita di tartarughe ninja Mutant Mayhem, Chaos Mutante, parlerò appunto di tartarughe ninja numero 61, 62, non mi ricordo. Ora, bando alle ciance, cominciamo! D-Landog Colorfest numero 46, dal titolo Graucio V, arriva l'estate, o meglio l'estate sta già quasi finendo, però con agosto si sa che il Colorfest ci porta delle storie leggere, delle storie divertenti, delle storie dove Graucio è l'assoluto protagonista. Ci porta anche delle storie non inedite, ci porta delle storie edite, cosa che ormai noi siamo abituati a saperla questa cosa, perché tutte le storie che si trovano nel Colorfest contenente i vari Graucio sono tratte dal Graucio Omicon, o come in questo caso ci ricorda Barbara Baraldi, la prima storia è tratta dalle storie contenute nel libro, nel segno di Cavazzano. So che a molti questa cosa non piace, tant'è che non comprano il Colorfest con Graucio per questo motivo, perché probabilmente possiedono il Graucio Omicon, beati loro, io non avendo il Graucio Omicon le leggo sempre con molto piacere e sono sempre una sorpresa. Cominciamo con la prima cosa che vorrei farvi notare, ovvero l'editoriale. Gli editoriali passati dove c'era protagonista Graucio erano firmati da Graucio stesso in persona, ovviamente Recchioni impersonava lo stile di Graucio e devo dire che era anche molto convincente in un editoriale appunto in prima persona, molto molto carino. Qui invece Barbara Baraldi si firma come se stessa, però non fa assolutamente rimpiangere l'editoriale, perché qua si vede proprio il tocco della scrittrice, Barbara Baraldi si vede che può scrivere tranquillamente in prosa. Paola Baraldi è una scrittrice e qua è evidente, è una cosa che ho apprezzato molto molto molto. Parliamo delle due storie, io non sono mai stato un grande fan di Topolino, nemmeno da piccolo, le storie non mi piacevano, vabbè, però mi piace tantissimo questo stile applicato all'orrore di Dilan Dogg. Lo stile Disney italiano applicato a Dilan Dogg per me è fantastico. Dilan Dogg disegnato da Cavazzano è praticamente Lucky Luke, non amo particolarmente il mascellone, non amo particolarmente il nasone, la basettona, però ci sta, ormai sono abituato a conoscerlo con questo tratto, non mi piacerebbe nemmeno se cambiasse. Graucio invece è perfettamente tra le corde appunto di Cavazzano e la storia lo vede assoluto protagonista. Tra l'altro qui è stato utilizzato anche proprio una delle cose fondamentali che caratterizzano Graucio, ovvero il fatto che sia un attore, il fatto che sia un sosia, il fatto che comunque a differenza di Dilan sia più attaccato ai beni materiali, ai soldi, anche a pagare le bollette. Quindi tutti questi elementi lo portano giocoforza a entrare in un cast hollywoodiano come consulente dove scopre questo complotto, complotto che cita anche Stargate, che cita anche The Island in un certo senso e l'ho apprezzato tantissimo. A me piace vedere Graucio in queste storie. Spero tanto che i detrattori di Dilan, che quando ci si scosta dal tratto classico di Dilan Dog, sono pronti a prendere in mano i forconi, quando c'è di mezzo Graucio non rompano le scatole. È stato bellissimo vedere anche tutte le caricature dei grandi estinti, da Hendrix a Jim Morrison, a James Dean, Elvis Presley, Marilyn Monroe. Le vignette sono praticamente quelle di Topolino, quindi classica griglia 6 senza troppi fronzoli, però ecco il colore e l'espressività del tratto rendono il numero molto dinamico, quindi non c'è assolutamente bisogno di strafare con le vignette per dare carattere a questa storia. Storia che non è priva di difetti nei contenuti, soprattutto la parte iniziale, ci sono un po' di bumerate all'inizio che posso capire facciano parte di una generazione leggermente superiore alla mia, quindi una mezza generazione, forse anche un'intera generazione, prima di me, che trova un po' esilarante fare battute del eh ma signora non si può più dire niente, eh signora mia. E quindi c'è tutta una parte iniziale in cui Graucio parla col regista e fanno un po' questo sfottò ai film moderni che devono prendere attori che non assomiglino per nulla al personaggio originale. Ora, per quanto possano aver ragione da un certo punto di vista, io credo che tra un po' con Biancanevi e Sette Nani arriveremo a un punto di rottura e si prenderà sicuramente un'ondata diversa tra qualche anno, ne sono assolutamente sicuro. Per quanto questo possa essere fondato, l'utilizzo di certi termini in maniera scorretta solo perché è popolare non mi piace, mi riferisco al termine politicamente corretto che è usato a sproposito dalle persone che guardano il telegiornale, non so come definire, dai boomer che fondamentalmente usano questa parola politicamente corretto al posto della parola reale che è inclusività. Mi basterebbe quello, mi basterebbe l'utilizzo corretto per un discorso semantico, poi le opinioni per carità ci stanno. ci sta che Graucio faccia appunto, arrivi a fare un livello di battute tale da fare il giro, quindi mi fa anche ridere. La parola politicamente corretto la utilizza il produttore e la utilizza in modo che non si lasci presagire quello a cui si andrà incontro nella vignetta dopo, quindi infatti Graucio dice avete tolto il sigaro al mio personaggio e ci sta, quello è politicamente corretto, però invece il produttore lo intende proprio a livello di inclusività, tant'è che appunto il personaggio che interpreta Graucio è un cito asiatico albino vegano, ma con un paio di baffi sarà perfetto e Graucio appunto fa questa battuta che fa il giro e sfidare la lobby dei glabri? Già mai! Qui nel Regno Unito sono molto forti. Quindi vabbè. Mi ha fatto ridere per i motivi giusti, spero, però non mi piace quando una battuta che affronta un grande pubblico così vasto, ovvero quello di Dylan Dogg, che soprattutto comprende una generazione che non capisce bene alcune cose, possa far ridere per i motivi sbagliati. Tutto lì. Ma è una stupidaggine, mi sto attaccando a dei sofismi, perché comunque la storia è fantastica, quindi ci sta. Un colpo al cerchio ed uno alla botte in questa storia Graucio invece esalta il lavoro delle persone che onestamente si guadagnano da vivere impersonando i propri idoli. Si riferisce sicuramente appunto alle persone che vediamo anche dopo nella storia, ovvero all'Elvis che elemosina cantando le sue canzoni vestito da Elvis. Mi sento un attimino preso in causa in modo positivo, anche se io non faccio il cosplayer di mestiere, lo faccio per hobby e lo faccio anche con molta superficialità, però mi piace che, diciamo, in questa storia si rispetti un attimino chi veste i panni dei propri idoli proprio per ammirazione. Questo lo dico perché nella seconda storia, invece, c'è una forte critica, no, in realtà no, è una battuta, ma è che comprendo pienamente, una forte critica, invece all'altra cosa che faccio per hobby, ovvero lo youtuber, in cui dice youtuber e mediocrità si sposano benissimo. Ora, non facciamo di tutta l'erba un fascio, come sono spesso solito fare io, prendo la battuta, mi sposto, mi sguiscia via ed è riferita ad altre categorie di youtuber. Ovviamente non a quelle che recensiscono i fumetti di Dylan Dog. Il tratto di Dav mi piace un sacco, ha colori, ho tra l'altro visto un po' le bozze nel finale, si vede che mancava qualche pagina, mi hanno aggiunto qualche bozza sia di Cavazzano che di Dav e si vede proprio il tratto che aveva inizialmente e il fatto che da qui si è arrivato comunque a fare un numero disegnato molto meglio pur mantenendo il suo stile mi ha entusiasmato. Qua c'è un umorismo di tutt'altra generazione, qui c'è un umorismo davvero dell'ultima ora, un umorismo anche più giovane per me e che abbraccia tantissimo le battute di Groucho. Sono continui giochi di parole, continui balloon pieni, pieni, pieni zeppi di battute che fanno sembrare Groucho il nostrano Deadpool e quando Groucho lo trattano così io lo adoro, è fantastico. C'è anche questa inquadratura molto manga in cui Groucho si gira con tono molto greve per quello che dovrà fare che rimanda un po' anche ad alcuni manga. Il fatto che Groucho anche sappia tutto ma allo stesso tempo non sappia assolutamente quello che sta facendo mi ricordano molto l'improvvisazione di Deadpool sia nei film che nei fumetti. Quindi sapere che anche noi in Italia abbiamo un nostro Deadpool mi ha entusiasmato un sacco. La citazione a Dragon Ball per un fan di Dragon Ball come me ovviamente mi invita a nozze ma soprattutto aiuta chi quantomeno sa qualcosa di Dragon Ball che comunque è l'anime e il manga più conosciuto al mondo aiuta un attimino a entrare nell'ottica di come funziona l'inferno in questo fumetto. Infatti poco dopo ci dicono che i morti comunque le persone che stanno all'inferno non hanno un corpo fisico e quindi non possono morire esattamente come ci hanno detto nella prima saga, quella di Freezer dal pianeta di Recaio quando Goku, Yanko e così si allenavano e non potevano morire perché non avevano non erano vivi e quindi non potevano morire cosa che poi hanno un attimino confuso nella saga di Majin Buu ma lasciamo perdere. Delle due forse questa è la storia che mi ha esaltato di più perché è stato un ritmo incessante, incalzante di battute che mi hanno fatto venire il mal di pancia da ridere devo dire che per una storia così mi aspettavo non lo so, forse il finale è stato un po' frettoloso forse il finale è stato un po' tranquillo ma d'altronde che potevi fare di più di così? È stato carino il ritorno dei due demoni sia per il plot twist finale sia per aiutare Graucio a far risorgere Dylan Dog il fatto che Graucio desse un nome falso a Belzub era abbastanza telefonata hanno usato Tex Wheeler io avrei proprio giocato sul fatto che Graucio Marx in realtà non è il suo vero nome ma è il nome dell'attore quindi si poteva anche giocare su questa cosa però magari sarebbe servita una pagina in più e non avrebbe avuto quel mordente quindi invece Tex Wheeler è molto più immediata come battuta è molto più immediata come effetto comico anche proprio per chiudere il numero un numero che mi ha soddisfatto tantissimo anche nella ricerca nel trovarlo 690 iniziano ad essere un po' tantini però io continuo a pensare mentre piango tirandoli fuori dal portafoglio che comunque è un trimestrale e che lo merita è vero non sono storie inedite ma se sono inedite per chi le legge ci stanno ovviamente per una persona che ha già il Grauciomicon ha già nel segno di Cavazzano che a questo punto io non prendo perché mi aspetto che usciranno altri Graucio sesto, settimo eccetera con storie tratte dal segno di Cavazzano di conseguenza non compro più il cartonato di Cavazzano e prendo questi fondamentalmente in modo da avere entrambe le storie però ecco è stata una piacevole lettura una lettura colorata in tutti i sensi e mi ha davvero divertito scrivetemi voi qua sotto cosa ne pensate di questo numero io come sempre vi ringrazio per aver seguito fino alla fine del video con l'inchino e con l'imbuto vi saluto e vi dico arrivederci al prossimo video